Primo spettacolo Innanzitutto bisogna dire che quella vicenda accade in un contesto storico, sociale, molto particolare cioè noi non c'eravamo mai percepiti come paese un paese di confine però di fatto eravamo un paese di confine il confine diciamo dell'Occidente uno dei confini dell'Occidente a fronte dell'Oriente comunista nel momento in cui cade, crolla il muro di Berlino improvvisamente tutte le contraddizioni di questo schematico di visione in due del mondo ci crollarono addosso e l'arrivo degli albanesi sulle nostre spiagge in Puglia ma in particolare l'arrivo di questa nave della Valora a Porto di Bari l'8 agosto del 91 fu un pugno nello stomaco che ci svegliò improvvisamente da un cinquantennio di sonno e ci disse guardate che il mondo è cambiato Clady tu c'eri su quella nave eri su quella nave e dopo qual è stato il tuo percorso nel senso che sei finito anche tu nello stadio sì sentendo adesso Daniele mi veniva in mente che noi non siamo scappati solo una volta siamo scappati dall'Albania e poi abbiamo cercato di scappare sia dal Porto e anche dallo stadio dell'editoria perché le condizioni erano tali che ti portavano insomma di essere sempre ricordiamo che questo stadio tra l'altro era stato chiuso appunto con le persone dentro ma non c'era nessun tipo di di gestione o di protezione né da parte della polizia italiana né da parte delle associazioni che avrebbero potuto intervenire in qualche modo e che furono appunto gli fu detto di non intervenire inizialmente quando noi siamo entrati allo stadio c'erano dei poliziotti talmente pochi che poi una volta chiuse le porte sono usciti anche loro e poi lì è successo di tutto e di più